Una vittoria al fotofinish, la quinta consecutiva per Alessio Marco Aurelio, nella tradizionale corsa degli scalzi che si svolge ogni prima domenica di settembre a Pacentro. Il giovane non si è lasciato spaventare né dalla discesa ripida del Colle Ardingo e né dai suoi avversari. Quinta vittoria consecutiva, quando hai capito che potevi vincere? Appena sono sceso sapevo già che stavo più o meno al primo o al secondo, troppo veloce. E' soddisfatto di questa prestazione, quali sono state le tue emozioni? Alessio è un grande, ci ho provato, ci ho provato, non me l'aspettavo neanche dicendo così, io ci ho provato. Sindaco, una grande giornata per Pacentro, tanto entusiasmo. Tantissima gente, è un'emozione forte, questi ragazzi hanno un cuore grande, stare qui dentro, vederli arrivare, è un'emozione troppo forte, proprio ti si apre il cuore. Arrivano sfiniti su questo altare, onorando la Madonna, io sono veramente orgoglioso e felice di tutti quanti loro. Superiore alle aspettative, siamo felici, ma siamo maggiormente felici che nessuno, come vedete, si è fatto male, è la cosa principale. Mi rendo conto di che cosa significa vivere questa corsa un po' dal di dentro, per quello che posso, ma devo dire che questa è un'altra perla della nostra provincia, che deve essere una grande tradizione di Pacentro, ma deve essere anche una grande risorsa per l'intera provincia dell'Aquila. Tantissima gente, ho avuto la fortuna di vedere la corsa da un posto privilegiato quest'anno e devo dire che vedevo un panorama e uno spettacolo fatto di gente, di felicità, di tanta festa, ma soprattutto di tanta attenzione prima della corsa, cosa che vuol dire che questa è una corsa sentita, non è soltanto una tradizione, ma è veramente, sta nelle tradizioni, nelle radici dei pacentrani e delle pacentrane.